Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2016 con il nostro mitico Wigan E finalmente ritorno a registrare col Wigan, era almeno da una settimana che non registravo questo tipo di video Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora di fare il mercato Siamo al 7 di gennaio, raga ma porca miseria sto da tipo sabato a vedere chi comprare, chi cedere Veramente è un casino, come sempre insomma, veramente quest'anno non so perché con questo FM16, con questo Wigan soprattutto Sto avendo molte molte difficoltà, non tanto di budget perché se ben vi ricordavate avevamo tipo 100 milioni Avevamo un boato di soldi, il problema è stato uno ragazzi, che con quei soldi in pratica ci siamo puliti il cosiddetto Perché molti giocatori ovviamente non vogliono venire perché siamo ancora in Wigan, siamo una neopromossa Con quei 100 milioni purtroppo non possiamo puntare che ne so a Bale, a Cristiano Ronaldo o a giocatori hyper mega galattici Quindi, e poi comunque la rosa deve essere di massimo 25 giocatori Quindi, vendi uno, compra uno, vendi uno, compra uno E non è affatto facile gestire così la rosa Soprattutto perché se ci fosse quel giocatore che dici, porca miseria, è una belba Ok, sarebbe facile perché tu ti butti su di quello e amen Invece no, ci sono tanti giocatori che dici, eh, vabbè quasi quasi, è buono Però nessuno che ti fa proprio sbattere il cuore Quindi ci sono tante scelte e alla fine devi forse vedere quella che è la migliore Fra scelte comunque alla fine molto molto simili Però secondo me bene o male ho fatto per il momento un buon mercato Un mercato che non dico che è finito anche perché siamo al 7 gennaio Forse qualche altro piccolo change perché dobbiamo sempre fare il fatto di vendere e comprare Così ho fatto, solo una cessione è stata obbligata Perché praticamente mi ha chiesto la cessione ma ora vi spiego a poco a poco il tutto Non so se farvi vedere la rosa o trasferimenti Vabbè, ho provato per Versalico come terzino destro Una spesa veramente bassa perché era pure scontento Il problema di Versalico che vuole tipo 40.000 milioni di euro Quindi ho preferito puntare su un giovinastro che è diciamo in prospettiva più forte Diciamo che l'unico pecca di questo giovine è che il contratto è su fondamentale Quindi sicuramente pretenderà di giocare Cioè Zappacosta quindi secondo me si alterneranno molto Poi raga ma che vada si vende se rompe le palle Però c'è sempre questo appunto problema delle cessioni Le prime due cessioni ovviamente le sapevate erano Martella e Delcadurri Però che cosa ho anche fatto? Ho ceduto Kakani Klitsch per un milione e otto Insomma non è granché, l'avevo preso giusto per fare numero Giusto perché era un vivaio nazionale Il Barley mi ha offerto un milione e otto Per un giocatore che abbiamo preso a parametro zero Sinceramente ho colto la palla al balzo E l'ho ceduto e l'abbiamo sostituito Facciamo così insomma vi dico chi ho venduto E con chi l'abbiamo sostituito L'abbiamo sostituito con un giocatore che Abbiamo pagato due milioni e cento Ma è un giocatore che secondo me è fortissimo Sia nella realtà Sia nel gioco Insomma si a 30 anni era in scadenza Per questo abbiamo pagato così poco Però secondo me Mertens è quel giocatore molto molto forte Di grande esperienza Ragazzi noi pensiamo Sogniamo di arrivare in Europa League Se arrivassimo veramente in Europa League Mertens sarebbe sicuramente un giocatore Che ci darebbe una grossa mano Io già ve l'ho detto Se arriviamo in Europa Faremo la prossima carriera Se no la chiudiamo qua Con comunque un grandissimo Wigan Quindi comunque nel caso di ulteriore anno In Europa League Sicuramente Mertens ci potrebbe dare Quell'esperienza e soprattutto quella forza Che ha poi ripeto Pagato solo due milioni e cento Ha accettato un contratto di 1,470 milioni 1 milione e 470 mila Ecco non mi vengono le parole Non so perché Ho dovuto fare a molti questo tipo di contratto In quanto ho sempre fatto che All'anno e Mitroglu Hanno la clausola del contratto migliore Quindi per evitare di rinnovare altri contratti Ho cercato sempre di tenermi sotto questa soia Comunque secondo me Mertens è un gran giocatore Che potrà giocare sia come titolare Che come sostituto Ma ripeto Secondo me è tanta tanta roba Poi abbiamo ceduto Martella E Martella lo volevo Diciamo sostituire con Versalico Che non aveva nemmeno il problema Di giocare come fondamentale Però chiedeva 3 milioni di ingaggio Ho provato pure a offrirgli 1 milione virgola 3 milioni di ingaggio Io non volevo offrire 1,470 Diciamo accettato Però le clausole erano troppo 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 alte E quindi ho preferito puntare su un giocatore più giovane Più forte Diciamo sicuro in prospettiva E soprattutto un giocatore che forse non tutti conoscono Che è Kenny Tete O Tete insomma Gioca nell'Ajax A inizio carriera insomma Però poi è stato comprato qui nella nostra Dal Monaco a 12 milioni L'ha venduto tipo 6 mesi dopo A 15 milioni Sicuramente che appunto era scontento Perché non giocava Sicuramente pretenderà anche qui di giocare Probabilmente lo farà In quanto comunque è un giocatore molto più difensivo Rispetto a Zappacosta Zappacosta ogni tanto Pecca proprio di quello Forse diciamo che Tete è un po' più difensivo Zappacosta è un po' più bravo Nell'ambito offensivo Infatti Tete è tipo a cross 9 E fa un po' cagare E io lo sto anche appunto facendo allenare No mi ero proprio dimenticato E quindi Secondo me è un ottimo giocatore Abbiamo pagato 15 milioni Però nonostante noi avessimo Un miliardo di euro Ho preferito sempre fare il taccagno E dare 3 milioni e 8 Subito al Monaco E gli altri tipo 11 e mezzo 11 e 200 In 48 mesi Ripeto nonostante i soldi Ho preferito fare un po' il taccagno E risparmiare il più possibile Comunque secondo me è un grandissimo Terzino destro Ripeto Forse Versalico era il doppione Fra virgolette di Zappacosta Invece Tete Di meno insomma È un po' più difensivo Anche se comunque anche Zappacosta È un signor terzino Anche in fase difensiva Secondo me è un buon acquisto Spero che non si lamenti subito Del voler giocare Al massimo ripeto Gli daremo un po' più di spazio Poi raga Ma che vada Ci cede anche lui Sti grandi cazzi Poi Il Cadurri Venduto a 16 milioni Da Fiorentina Ma questo già lo sapevate È stato sostituito In maniera egregia Da Brian Cristante Un giocatore che ho già visto In molte vostre carriere Capisco anche il perché Perché è un centrocampista Della Madonna Si prende relativamente a poco Perché è in prestito Con diritto di riscatto A 13 milioni 750 mila Noi ne abbiamo 80 Se appunto gioca bene Sincero Lo andrei a riscattare Anche perché il contratto originale Suo È di tipo 1 milione E 100 Quindi Si potrebbe veramente Riscattare a pochissimo Preferito non comprarlo direttamente Ma prenderlo in prestito Non lo so raga Perché comunque Per il momento Vediamo com'è Vediamo com'è gioca Anche perché Il nostro centrocampista titolare Comunque Con Allan E Rabiu Quindi potrebbe pure essere Che si lamenta E quindi che Vuole ritornare al Benfica Sicuramente Un centrocampista Molto molto forte Che ci darà Una grossa mano E il sostituto Sicuro di El Cadurri È di gran lunga Meglio Secondo me Di El Cadurri Poi ragazzi Diciamo che La cessione obbligata È stata di vezzo Come sempre Un po' di no sense In questo gioco Perché vezzo Chiede di essere ceduto Al Bayer Leverkusen Perché il Bayer Leverkusen Fa le coppe Io gli ho detto Guarda il Bayer Leverkusen Ci ha offerto Due spicci Almeno aspettiamo Un'offerta migliore Io ho offerto Insomma Vezzo A 9 milioni E veramente Prima 10 E nessuno Mi aveva offerto niente Allora ho abbassato Un po' A 9 milioni E 250 mila E mi hanno fatto L'offerta Il Watford E il Bayer Leverkusen Però Il Bayer Leverkusen Tipo me ne aveva offerti 8 Allora io ho accettato Solo il Watford E lui ho accettato Di andarsene Veramente no sense Perché di certo Il Watford Non fa Nessuna coppa Però sti cazzi Ragazzi A me dispiace Aver ceduto Un giocatore così Forte Insomma Come Vezzo A non tantissimo A 9 milioni E 250 mila Però un po' Sono stato obbligato Un po' Alla fine L'ho Secondo me Sostituito Nel modo migliore Quindi Da un lato Sti cazzi Perché appunto Era obbligato Quindi non potevo fare niente Ed è stato Sostituito Da Winston Reed Che era Nella lista Cedibili E l'ho Acchiappato così Con 7 milioni E mezzo Sempre però Facendo il trucchetto Un milione E mezzo Subito Il trucchetto Che è tutto Lecito Un milione E mezzo Subito E tipo 6 in 48 mesi E pure lui Sempre il contratto Di un milione Virgola Quattrocentosettantamila E pure lui Un giocatore Veramente Secondo me Di tutto Tutto Rispetto Veramente Un ottimo Difensore Che darà Una grossa mano Alla nostra difesa Soprattutto A grandissima esperienza Già appunto In Inghilterra L'aveva addirittura Comprato il Valencia Quindi Per farvi capire Che è un difensore Veramente molto Molto valido Poi infine Sincero ragazzi Michael Gonzalez Invece L'ho voluto Cedere io Per cercare Di migliorare Ancora di più La difesa Lui appunto È un 3 stelle E Michelin No È un 3 stelle L'abbiamo preso A parametro zero L'abbiamo venduto A un milione Non è che abbiamo fatto Questa gran plus valenza Però secondo me L'abbiamo sostituito Con un altro Bel giocatore Che è Diego Reyes Preso dal porto A 9 milioni Sempre il fatto Tipo 2 milioni Subito E 7 milioni In 48 mesi Infatti Come potrebbe vedere Ci abbiamo ancora 85 milioni Per questo Non ho speso un cazzo E Diego Reyes È un altro Difensore Molto 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 interessante E Forse un pochino Di più Di Michael Gonzalez Infatti Ha 3 stelle e mezzo Proprio per questo Ci ho tenuto A fare questo cambio Non è proprio Sergio Ramos Però Secondo me Anche lui Ci può dare Una grossissima mano Ovvio Adesso la difesa È rivoluzionata Però Sono due difensori Esperti Uno a 25 L'altro a 29 Anni Sono due difensori Molto importanti Anche appunto In chiave Europa Quindi sicuramente Potremmo fare bene Infine Il colpo proprio Da capogiro È Nabil Fekir Giustamente direte Ma al posto di chi? Al posto di Luis Alberto Luis Alberto Se ben vi ricordate È quel giocatore Non ha quasi mai giocato Che avevamo preso In prestito Da Liverpool L'allenatore In pratica Mi aveva detto Scusa ma perché Non lo fai mai giocare? Io già all'epoca Gli dissi perché Non è granché Poi l'ha ripetuto Allora mi sono rotto Le scatole Considerando il fatto Che c'era Fekir Possibile Che si poteva Prendere in prestito Quindi ho Tra virgolette Recisso il contratto A Luis Alberto Il contratto di prestito E ho preso Nabil Fekir Fekir che si prende Un boato di ingaggio 3 milioni e 6 Più anche altri soldi 13 mila euro Mensili che si dà Alla squadra Però Sicero Con tutti i soldi Che avevamo Mi sono voluto Levare lo sfizio Di prendere un giocatore Che Non sono manco sicuro Che giocherà Sempre Insomma Si dovranno alternare Molto Perché lì in attacco Adesso c'è veramente Molta abbondanza Sulle fasce Proprio di questo Poi ne parliamo Quindi Insomma Sicuro sti 6 mesi Li fa Ripeto L'ho voluto prendere Per il mio sfizio Tanto I soldi non ci mancano Non so se poi Andremo a riscattare Solo per un unico problema Il contratto Troppo troppo alto Lo so che poi ragazzi Se mai arrivassimo in Europa Ovviamente I contratti di Mitroglio All'anno Andranno modificati Per cercare poi Di prendere qualche giocatore Molto molto Più forte Se avete capito Dal mio parlare tanto Oggi non andremo a vedere partita E mi sono anche proprio Dimenticato di dirlo Oggi parleremo solo di mercato O meglio Abbiamo quasi finito Però C'è un altro piccolo Briefing Un'altra piccola discussione Sulla rosa E poi ci salutiamo Vi volevo intanto far vedere Non lo staff Ma il calendario Quella col Southampton Sicuramente L'andremo a vedere Nel prossimo episodio Ma vi volevo far vedere Le due vittorie La prima Su 1 a 2 Con il bar mount Autogol di Dummett E poi raga Il mitico Le Fondre E poi il 2 a 0 Con il Cambridge Gol di Le Mar E all'esordio Gol di Fekir Quindi veramente Tanta tanta roba Questo Wigan Che non si ferma più Addirittura Adesso siamo terzi La vedo dura Ragazzi Ci manca veramente Un sacco di partite Quindi Io come sempre Sono fiducioso Ma più che altro Per l'Europa League Faremo di tutto Faremo veramente di tutto Però se vedete bene Ci sono dietro squadre Come Liverpool Manchester Chelsea Abbù Mettiamo pure l'Eister Quindi l'Everton Newcastle Pure non è affatto male Quindi sono tutte squadre Che all'improvviso Si riprendono E fanno milioni Di miliardi di punti Quindi Possiamo tanto Arrivare al quarto posto Tanto al quinto Al sesto Al settimo Tanto appunto Ci potremmo ritrovare A fine Diciamo anno Alla decima posizione Però Se ben vi ricordate Il nostro obiettivo principale Era La salvezza E a un punto Siamo a un punto Dalla salvezza Fra virgolette Anche se Per avere poi Tutti questi soldi Ho dovuto cambiare Ovviamente Le prospettive Insomma Gli obiettivi Di fine anno Infatti ho messo Non la Champions Ovviamente Ma l'Europa League Quindi speriamo di raggiungerla Perché se no ci mandano via A calci in culo Però E che cazzo Mai dire mai Se ci mandano via Sti cazzi Tanto già l'ho detto Che se non arriviamo in Europa Mi auto esonero Quindi Sti cazzi Detto questo Mi sa che già ho parlato tanto Come al solito E Come potete ben vedere Ragazzi Una cosa È da notare Una cosa che Fra virgolette Ci tenevo tanto È far raggiungere Almeno la squadra titolare Tutti quanti Le tre stelle e mezzo Già è qualcosa Insomma Addirittura c'è Alan Che è quattro Ma Alan Ragazzi veramente è un giocatore A cui voglio tanto tanto bene Direte È Sepe E infatti Proprio di lui volevo parlare Sepe È un portiere Che sincero A me sulla carta piace Ehm Si ha fatto qualche Stronzata Ci sta Insomma Abbiamo avuto anche grandi Oddio Non è che abbiamo mai avuto Portieri Alla Courtois Alla Neuer Abbiamo sempre avuto portieri Pagati due spicci Che però secondo me Sono sempre stati ottimi Quest'anno C'abbiamo i soldi Per cambiare Sepe Però Lo cambierei Per un portiere O veramente forte O comunque per un tre stelle e mezzo Che prende sempre un ingaggio Inferiore A un milione Quattrocentosettantamila euro Ehm Quindi Da un lato Vi vorrei anche chiedere Che cosa fare Con Sepe Dall'altro invece Vi dico anche Sincero proprio Se trovo qualche occasione Se trovo qualche portiere Superiore Alle tre stelle e mezzo Che accetta Comunque un contratto Del milione e mezzo Ehm Facciamo questo change Tanto Sepe bene o male A tre Quattro milioni Si riesce a vendere Se no raga Sincero Questi sei mesi Ce lo teniamo Tanto per il momento Non Non ha sfigurato Comunque una media Voto del sette E Ehm Scarso non è Insomma Secondo me Molto buona Come media Quindi in teoria Potrebbe anche Fare ancora bene Ci pensiamo Più che altro Più che pensarci Dobbiamo vedere Se trovare qualcuno L'unica cosa Che di questa squadra Che fra virgolette Mi spaventa Che abbiamo Un Undici titolare Molto molto valido Abbiamo a centrocampo E sulle fasce Delle alternative Molto molto valide Come Tete Bakayoko Cristante Fekir Diciamo che Pecchiamo un po' Vabbè in porta Emiliano Martinez Come vice Secondo me E' più che buono Anche perchè c'ha il fatto Che vi vaio nazionale Quindi E' una santa cosa Quello che pecchiamo un po' E' La difesa centrale Perchè Se corre una facenda Appunto Winston Rita Adesso è infortunato Per ancora pochi giorni Però mettete caso Si infortunia Uno dei due Abbiamo come alternativa Isaac Hayden Che è un giocatore Che a me Sincero piace tanto Il problema è che E' ancora E' un po' lento Insomma Ancora deve imparare bene A fare il difensore centrale Anche se sulla carta E' molto valido Quindi non so perchè Ci mette così tanto E Jason Pierce Che è veramente Molto molto Scarso Per lo staff Però invece Secondo me sulla carta E' un buon difensore Io sono molto combattuto Sono molto combattuto Su La difesa E sull'attacco Perchè Isaac Hayden E' giovane E' Vivaio nazionale Anche lui E quindi potrebbe Fare bene Insomma Con questo Wigan Potremmo anche provare A mandarlo in prestito E prenderne un altro Però dovremmo prendere Un vivaio nazionale Non è facile Non è facile Trovare Vivaio nazionali Validi E Jason Pierce Invece ragazzi Un po' mi dispiacerebbe Vendolo Perchè E' comunque Il capitano E c'è sempre il problema Del vivaio nazionale Quindi Boh A me fa strano Che ha solo queste due stelle Perchè Mentalmente E' molto valido Tecnicamente In difesa Sembrava molto buono Fisicamente Scarso non è Non è proprio Il massimo Perchè Sono molto Molto Combattuto Come sono anche Molto Molto Combattuto In attacco Perchè Mi trovo A club Bene o male Io non lo vorrei cedere Perchè Ripeto Un attaccante Che prende così poco Pagato così poco Così forte E difficile Da trovare Ultimamente Si sta un po' perdendo Ha fatto 21 presenze Solo 10 gol Però ragazzi Insomma Io lo vorrei Comunque tenere Boh Ma che vada Al massimo Ce lo teniamo Come panchinaro Ma venderlo così Un po' mi scoccerebbe O almeno per Questi giorni Almeno per questi Sei mesi Invece Per quanto concerne Gli altri due Sono davvero Troppo Troppo Combattuto Perchè Da un lato Penso che Servirebbe Un sostituto Di Mitroculo Molto Molto Più valido I soldi ce li abbiamo Quindi ce li potremmo Pure permettere Il problema E che chi Vendere Perchè Adam LeFond Oramai Il nostro Beniamino Sta giocando Veramente A mustro Sta segnando Sempre Quindi Non È difficile Anche da cedere Perché è un attaccante Che ha sì Solo due stelle Abilità Però Ti segna Che fai Lo vendi Quattro goal Due assist È difficile Ragazzi Molto difficile È anche ricercato Quindi in teoria Si potrebbe anche Cedere Relativamente facile Però Insomma E poi C'è anche Davis Davis È un pezzo Di cuore Davis Che in 5 partite Ha fatto 6 gol A media voto Del 7.74 Quindi Sono molto Combattuto Eppure in scadenza Di contratto Non so nemmeno Se rinnovaglielo O meno Anche perché Chiede 800.000 euro Porca miseria E Mi affido a voi Insomma Mi affido a voi E poi Infine Ragazzi Le ultime due cose Per McCann Sono indeciso Ma perché Più che altro Anche lui È vivaio nazionale Quindi Se lo vendiamo Dovremmo prendere Un altro vivaio nazionale E Sì c'ero Cioè Ci sarebbe Darren Fletcher Però McCann È quel giocatore Che Lo usiamo Proprio Nelle emergenze Secondo me Nelle emergenze Lui va più che bene Come sempre Aspetto a vostri consigli E infine L'ultima cosa Poi smetto Di parlare Anche perché Ne sta andando via La voce C'è Dales in Graben Che ovviamente Con l'arrivo di Fekir Con l'arrivo di Mertens Non ha Praticamente Più spazio Anche perché C'è Suso Eccetera Quindi Quello che vi chiedo è Lo mandiamo in prestito Lo mandiamo in prestito Per prendere Un altro Jolly Fra virgolette Un po' più Scarso Ovviamente Che però Lo possiamo usare In Diciamo Emergenza Fatemi sapere Insomma Faremo la stessa cosa Che abbiamo fatto Con Fastorossi Orto Là Che Li mandiamo in prestito E amen Più che altro Ragazzi Sono curioso di dire una cosa Orto Là Ma pure lui A due stelle e mezzo Non è che Sia molto più forte Di Sepe Quindi niente Vabbè Quindi Fatemi un po' sapere Sia per l'attacco Sia per la difesa Sia per Dalei In teoria ci sarebbe Simone Verdi Per Come sostituto Di Singraven Per questi sei mesi Oppure potremmo anche Trovare un vivaio nazionale E Poi prendere Un altro difensore Molto forte Per Non lo so Insomma Come Panchinaro Anche Un attaccante Molto forte Ripeto Aspetto i vostri consigli Sono andato un po' avanti Io da solo Senza chiedervi niente Perché Insomma Volevo andare avanti Spero che per il momento Questo mercato vi sia piaciuto Mi raccomando Consigliate a bomba E Come sempre Un saluto a Mike94 Mettete mi piace Iscrivetevi Se non siete iscritti Commentate A bomba con i consigli E ovviamente Un saluto anche Da Football Manager d'Italia Ciao ragazzi